Gioia dei Marsi rappresenta la porta d'ingresso della Marsica Fucenza verso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Morise. Il paesaggio che avvolge questo accogliente comune abruzzese è un prezioso connubio di natura, storia e sapori genuini. Ma qual è la principale attrattiva del paese? La migliore attrattiva è innanzitutto la potenzialità turistica che il comune di Gioia dei Marsi, perché sono anche sindaco di Gioia dei Marsi. Ma diciamo che è un fattor comune per tutte le piccole comunità della nostra provincia, della provincia dell'Aquila. Noi abbiamo questa potenzialità turista che dobbiamo valorizzare. Ma è tutta la Marsica che ha forti potenzialità ancora da sviluppare, soprattutto in questo 2023. Il Covid ce l'abbiamo lasciato alle spalle, ci sono buoni propositi? Assolutamente sì, anche come provincia, e lo dico da consigliere provinciale delegata alla viabilità, il bilancio che in Assemblea dei Sindaci oggi stiamo per approvare è un bilancio ricco di interventi, soprattutto in termini di viabilità edilizia scolastica, perché riteniamo che la viabilità sia fondamentale come deterrente anche allo spopolamento delle aree montane, oltre che come fattore di sicurezza viaria. Una particolare attenzione anche per i giovani del posto, per evitare sempre più lo spopolamento? Sì, assolutamente sì, ecco perché ripeto, la viabilità è importante, perché l'accesso presso i nostri borghi è fondamentale in chiave turistica, ma anche in chiave di permanenza presso questi borghi o di attrattiva di nuovi giovani nelle nostre municipalità. Poi c'è bisogno anche di interventi importanti per riavviare le potenzialità turistiche che abbiamo e ad oggi ancora totalmente inespresse. Bisogna fare rete anche con tutti gli altri comuni per cercare di sopravvivere, dobbiamo dire, perché i piccoli centri del centro-sud Italia sono in forti sofferenze. Sì, assolutamente, la rete è fondamentale, la provincia come ente d'aria vasta questo vuol significare, i piccoli comuni devono stare insieme, magari maturando una cultura dell'associazionismo, se non della fusione che bisogna cominciare a valutare, ma con l'ente provincia bisogna stare tutti uniti e coesi perché è l'unica arma che abbiamo per fronteggiare anche questa particolare situazione di difficoltà economica.